Buonasera Davide, grazie, grazie infinite. Vorrei chiederti innanzitutto qual è il tuo stato d'animo in questo momento e quali sono i tuoi timori. Buonasera, in prima battuta devo dire che è stato un po' difficile capire quello che è stato detto perché purtroppo la trasmissione è un po' disturbata e quindi non posso rispondere direttamente. Però che cosa penso e che cosa provo io? Essere esposto a una brutalità così incredibile, a questo male totale, proprio come siamo stati esposti tutti nel corso dell'attacco di Hamas, ti fa non voler essere in quel mondo che permette dei comportamenti di questo genere. Hai la sensazione che la tua mente non riesca a contenere tutto questo, che la lingua non possa spiegare ciò che sta accadendo. E hai ragione, ci sono molti modi per essere critici nei confronti di Israele, Israele ha fatto delle cose terribili nel corso degli ultimi anni, nel corso dell'occupazione, noi di fatto da 55-56 anni stiamo occupando la terra di un altro popolo, bene, questo da solo è una cosa che ti fa pensare che non sia possibile una situazione di questo genere. Ma poi questa situazione si deteriora e distorge sia gli israeliani che i palestinesi, provoca una frustrazione sempre maggiore, una violenza, una crudeltà sempre maggiori. E allora se c'è, se ci deve essere una via di uscita in questa situazione forse ci sarà, ma attualmente, come ho detto, anche se noi denunciamo quello che ha fatto Israele nel corso degli ultimi anni, siamo intrappolati in una situazione che di fatto presuppone un altro tipo di analisi. Non è possibile paragonare neanche i 56 anni di occupazione con questo massacro brutale, perché il massacro ha uno scopo, quello di colpire coloro che sono totalmente inermi. Fabio, tu hai citato donne, bimbi, ebbene c'è qualcosa dentro questa brutalità così diretta. Se hai un vicino di questo genere, allora io credo che hai il diritto di mettere a punto una certa punizione o comunque cercare di arrestare questo tipo di reati. C'è un punto dove si deve capire che ci deve essere una differenza fra vendetta, punizione e una certa mancanza di logicità, come qualcuno ha detto. Io credo che si debba essere molto cauti a tracciare una linea di demarcazione fra la punizione e la reazione che Israele dovrebbe avere giustamente per difendersi. Bisogna stare molto molto attenti, bisogna creare dei corridoi umanitari come di fatto si è già iniziato a fare. Questo permetterà, speriamo, la maggior parte delle persone di spostarsi dal nord al sud della striscia di Gaza in modo da riuscire a togliersi dall'influenza della militare israeliana. Ebbene, ci sono già appunto i palestinesi che si stanno, come dire, muovendo dal nord verso il sud in posti più sicuri e Hamas sta andando contro questo loro desiderio. Bisogna ricordarsi che quando si parla di Gaza, ebbene, ci sono atti orribili che vengono perpetrati su popolazioni che tutto quello che vogliono avere è una vita normale, la dignità. Allora, che cosa dobbiamo fare con questo gruppo che si è appropriato della striscia di Gaza, che ha soggiogato la maggior parte di coloro che vivono a Gaza? Non so se ci sia una soluzione, io non ce l'ho, non so se qualcuno ce la possa avere, una soluzione di questo problema. Se Israele entra a Gaza ci saranno tantissime vittime da una parte e dall'altra. E probabilmente, ecco, io credo che lo scopo per il quale si vuole far scoppiare questa guerra verrà raggiunto ma durerà pochissimo perché poi si ritornerà ad un'altra situazione. Quindi è un incubo questo, è un incubo perché per noi è un incubo, andiamo per strada, ci parliamo e giustamente parliamo proprio di questo, dell'incubo. Non ci sono parole per descrivere questa brutalità. Davide, oggi il maestro Daniel Barenboim, fondatore della West Eastern Divan Orchestra con l'americano palestinese Edward Said, ha scritto delle parole bellissime sulla necessità di trovare l'umanità nel nemico. Lui dice è dall'umanità proprio del nemico che dobbiamo ripartire perché se non si vede innanzitutto l'uomo nel nemico è la fine. Mi chiedo se in questi momenti però c'è questa possibilità che è poi l'essenza di tutto il discorso cioè di trovare l'umanità nel nemico o se invece in questa fase non è assolutamente possibile l'odio prevale. Credo sia difficilissimo adesso. Da 35-40 anni a questa parte scrivo a proposito di questo conflitto, ho scritto libri, ci penso, è una situazione personale, la mia famiglia ha pagato un prezzo altissimo proprio la vita di mio figlio Uris è stata sacrificata 17 anni fa, però ci sono momenti in cui si comprende che il male non è sempre uguale all'altre forme di male e questo è un male assolutamente unico, estremo completamente, è un male che non abbiamo mai conosciuto prima. Sento gente dirmi che dobbiamo essere obiettivi, sì, dobbiamo essere obiettivi sul male, su quello che sta facendo Israele o i palestinesi. Io credo che sì, vale la pena di essere critici nei confronti di Israele, però l'obiettività in questo caso, perdonatemi, è come dire una copertura del nostro paradiso. Ci sono momenti in cui devi ascoltarti all'interno, devi basarti sulla tua intuizione nazionale che ti dice che questa cosa è diversa dagli altri massacri e che è pericolosa non semplicemente perché mette in pericolo Israele, ma è un pericolo esistenziale questo, stiamo parlando di questo. Dieci giorni fa eravamo, come dire, sull'orlo di essere invasi da Hamas che stavano arrivando a Tel Aviv e parte della reazione di Israele è questa reazione a questo terribile sentimento di perdita, di perdere il proprio paese. Voglio dire una cosa a proposito dei sentimenti degli israeliani. sono stati traditi dalla loro leadership sia la mattina di sabato quando non c'è stata la protezione, ma ancora di più lo sarà nei giorni a venire. Israele non è come qualsiasi altro paese. Certo, ogni paese è unico, però Israele è ancora più unica, proprio per la nostra storia, per quello che è la stratificazione della nostra fede. Siamo stati per anni e anni in esilio e abbiamo creato poi questo luogo meraviglioso, Israele. E la grande idea che è nel cuore e che è la base di Israele è che è uno Stato, la patria per gli ebrei. E il primo ministro israeliano avrebbe dovuto trattare questa situazione unica, miracolosa, che ha fatto sì che dopo tantissimi anni di esilio avessimo una terra. Ebbene, la nostra leadership non ha tenuto in considerazione questa cosa e non ha capito quella che è la grandissima responsabilità che ha nei confronti degli israeliani, del paese, e sulla garanzia che possa esistere. Hanno tradito costoro queste cose e hanno tradito quindi il cuore e la mente delle persone. E noi, la nostra paura è quella di perdere il nostro paese e quindi di pagare un prezzo assolutamente incredibilmente grande. Grazie David, grazie infinite per essere stato con noi per le tue parole e per come le hai espresse. Mi permetti, ti abbraccio con tutto il cuore, proprio con tutto il cuore e tutto l'affetto che sai. Grazie. Grazie. Grazie.